Ehi, di casa, buona gente, buona gente, Ehi, di casa, Ehi, di casa, Niu non risponde, Ehi, di casa, che brutta faccia, Neobriaco, Chi sarà, chi sarà? Ehi, di casa, Maledetti! Maledetti! Ehi! Cosa vuoi, signor soldato? Ah, sì, sì, Siete voi, Aspetta un poco, Siete voi, Dottor Balordo! Che Balordo! Che Balordo! Ah-ah, Bertoldo! Che Bertoldo! Che Bertoldo! Che è andato il diavolo! Che è andato il diavolo! Dottor Bartolo! Dottor Bartolo, dottor Bartolo, dottor Bartolo. Ah, bravissimo, dottor Barbaro, benissimo, dottor Barbaro. Un corno. Ah, benissimo, già avevoca, già avevoca differenza. Io già perdo, io già perdo la pienezza. Io già perdo, io già perdo la pienezza. Qui prudezza ci vorrà, qui prudezza ci vorrà. Dunque voi siete dottore? Sono dottore, sì signore. Ah, benissimo, un abbraccio qua, collega. Indietro. Sono anch'io, dottor Percento. Maniscalco al reggimento. Dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto. Osservate, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ah, benissimo, caro oggetto. Dall'arrabbi il rispetto di oggetto è più in verità. Della mia felicità. Anch'io fosse il biglietto, qualche carmestralità. E che mi viene al consagato. 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 Vado, vado, non gritate. Presto, 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 vieni qua. Ehi, ragazza, vengo al figlio. Dove, dove, signor mio? In caserma. In caserma. Con queste pelle. In caserma, pagastana. Aiuto. Allora, ti aspetto. Onde vado. Oh, no, signore. Mi dobbiamo già non costare. Cove, dove. E' un'altra replica. Cove, dove. E' un'altra dimensione. L'imprevento. Mio padrone, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Non mi chiuscirò. A se qui resta non posso. De prendete. Oimè, ci guarda. A trovarla ancora non posso. Prudenza. Ma sì, sì, lo troverò. Centos mania, cento addosso, a più reggere non so. Centos mania, cento addosso, a più reggere non so. Centos mania, cento addosso, centos mania, cento addosso. A più reggere non so. A più reggere non so. Oh, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E andate al diavolo. Non mi state di ascoltare. Cosa faccio il mio caro? 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 Il bastone lo farà di quaslo già, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un buon bastone lo farà di quaslo già. Dunque lei, nei pol di battaglia, bella battaglia devo dar, bella cosa, è una battaglia bella voglio dimostrar. Asservate, questo è il mosso, mi dico voi, sarete, attenzione, e gli amici, giù il farzamento, e gli amici, standi qua, attenzione, ferma, ferma, che cos'è? Vuoi vedere? Sì, se fosse una ricetta, ma un biglietto, e mio dovete, mi dovete perdonar, grazie, grazie. Grazie un corno, a quel foglio, a quel foglio, a quel foglio, a quel foglio, a quel foglio che chiedete, per azzardome cascata, e la lista del bucato. La fraschetta, la fraschetta, presto, 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 presto. Ma che vino, il barbiere, ho preso a paglio, nella lista, quanto gente, sono dispovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.